cari amici ma soprattutto cari amiche di total photoshop come uso sempre dire in queste occasioni in occasioni di tutorial oggi è questa questo incontro vedete queste due brutte facce in realtà la faccia brutta è la mia sono qui sono due amici sono marco e alex due amici che sei lì che guardi le cose su facebook poi uno ti tagga in una foto dice va bene andiamo a vederla e porca bip perché abbiamo appena fatto un tutorial sulla censura dell'audio a questi due ragazzi hanno fatto una foto pazzesca che quella che che vedete adesso al posto del mio faccione e immediatamente c'è venuto lo sghiribizzo di dire beh no fermi tutti una foto pazzesca ma raccontateci come avete fatto a farla premessa importantissima marco e alex non fanno i fotografi di professione per cui questo lo considero una cosa particolarmente importante perché ci rinnova il concetto che è la passione a muovere eh le persone a fare progetti artistici anche molto importanti anche molto significativi e che comunque qualche sacrificio eh lo richiedono in termini di ore che te ne devi stare in giro che magari non stai con la fidanzata che magari non stai con la moglie eccetera eccetera che poi quando torni a casa le paghi tutte e via dicendo bene eh Marco ehm come è nata questa cosa innanzitutto da dove è partito prima di uscire di casa che cosa avevate in mente non parlarmi di quella roba lì parliamo di fotografie esatto a noi piace molto lo diciamo la tecnica dello star trail perché ti permette di vedere il cielo come normalmente non riesci a vederlo nel senso che a occhi nudi non vedi l'effetto delle delle stelle che girano meglio la terra gira e quindi le stelle le vedi di conseguenza siamo partiti con l'idea di andare al sacro monte di Varese di fare questo tipo di foto ma non ci aspettavamo certe connessioni particolari diciamo che ogni tanto ci troviamo io e alex andiamo a fare questo tipo di foto un po' dove capita quindi siamo partiti siamo trovati abbiamo messo abbiamo preso la nostra attrezzatura dal cavalletto fino fino a tutti gli obiettivi possibili immaginabili e ci siamo recati al sacro monte e abbiamo trovato delle condizioni che normalmente non troviamo nel senso che c'era era piuttosto umido anche se non c'era vento non era non era freddo e ci ha creato ha creato una tossera un po' particolare nel senso che l'umidità diffondeva bene le luci che erano degli lampioni del sacro monte e ha creato questo alone dietro l'ultima cappella bene io faccio subito già un passo indietro perché tu sei già arrivato sul posto in realtà io lo so già che dall'altra parte poi tu mi stuzzicati hai detto ho messo il cavalletto in macchina obiettivi eccetera adesso alex invece ci svela qual è stato proprio l'attrezzatura che avete caricato in macchina in modo tale da capire uno che vuole provare a rifare questo esperimento che avete fatto voi che cosa deve infilare nello zaino ok allora appunto come diceva mio amico Marco siamo partiti con l'intento di fare questa tipologia di foto e l'attrezzatura per questa tipologia di foto sicuramente il cavalletto non può mancare perché è indispensabile usando tempi lunghissimi cavalletto e una bella testa che sorrega il tutto indispensabile dopodiché serve sicuramente uno scatto remoto io purtroppo non ho come lui uno scatto remoto con sequenza di scatti quindi ho dovuto arrangiarmi un po' con lo scatto remoto e il cronometro quindi ho usato anche il cellulare come cronometro per calcolare appunto il tempo dell'esposizione dopodiché vabbè la macchina fotografica io uso Nikon una D700 come obiettivo generalmente si usa io perlomeno per questo scatto ho usato un 18 un 18 Zeiss si può usare anche un grandangolo un po' meno spinto diciamo anche si può arrivare anche a 35 e 24 di focale si riesce a fare qualcosa di buono anche con queste focale qua io come ho già detto ho usato un 18 Zeiss perché è il mio massimo grandangolo e ho già fatto un'esperienza con questo tipo di ottica e quindi ho riprovato a farlo poi appunto torcia perché ovviamente siamo di notte e quindi la torcia è indispensabile per varie le varie procedure prima di iniziare a fare appunto lo scatto finale poi la voglia di fare la foto la voglia di uscire alle nove di sera o anche più tardi di prendere magari anche il freddo anche se questa serata qui non era particolarmente freddo però diciamo stava bene comunque la temperatura era buona poi una volta arrivati sul posto appunto si si parte con l'inquadratura e tutto ok quindi il quadro dell'attrezzatura che vi siete portati dietro è chiaro per inciso il cellulare lo uso anche io come come cronometro perché almeno non mi addormento quando sto lì a fare le pose lunghe ecco posa lunga significa che la macchina fotografica è stata con l'otturatore aperto per un tempo decisamente lungo molti utenti dicono quindi iso bassissimi per per fare questo genere di foto allora da un lato puoi avere ragione dall'altro no nel senso che tendenzialmente il cielo di notte è molto poco luminoso in questa foto la cappella è rimasta piuttosto chiara perché l'abbiamo illuminata volutamente con una torcia però l'ottimo sarebbe tenere l'iso medi non troppo alti per non generare rumore che poi è difficilmente rimovibile in post però deve permettere di non andare molto lunghi quei tempi deve permettere di non tenere di conseguenza l'otturatore molto aperto e scaldare il sensore qui ovviamente le macchine full frame le fotogramme full frame sono avvantaggiate proprio per una questione di dimensione di rumore che viene generato tanto per dire io ho utilizzato un iso 1000 con l'impostazione di riduzione del rumore standard senza andare a forzare troppo la riduzione del rumore anche perché poi tendenzialmente se la riduzione del rumore è elevata porta via tempo e si rischia di vedere tra uno scatto e successivo un piccolo spazio in cui la fotocamera non ha registrato dati e di conseguenza non c'è quel tratto di spostamento della stella spostamento apparente della stella e qua la cosa si fa spessa allora idee chiare siete partiti la vostra bella attrezzatura avete fatto un po' di esperimenti per quanto riguarda l'esposizione perché sappiamo che la fotografia notturna non è una scienza esatta si basa molto sulla sulla sperimentazione sul confronto diretto su quello che ci troviamo poi sul campo dove andiamo a scattare e qua mi viene sempre in mente quello che accade anche a me cioè io esco di casa con un'idea e poi Alex cosa succede quando siete arrivati sul posto? Quali condizioni particolari oltre all'umidità c'erano? Niente come dici tu appunto quando esiste alla sera non si sa mai quale sarà lo scatto finale bisogna arrivare e vedere come sono le condizioni, l'umidità, il cielo, se ci sono nuvole che possono pregiudicare lo scatto le scie degli aerei che in questi scatti sono penso le peggiori noi purtroppo di aerei nel cielo ne passavano molti però siamo stati fortunati che non hanno interferito appunto nello scatto lo scatto bisogna arrivare appunto si sceglie prima di tutto l'inquadratura aiutandoci con delle torce come ha detto Marco abbiamo illuminato appunto la cappella abbiamo scelto l'inquadratura una volta scelta questa inquadratura abbiamo diciamo per tentativi trovato la copiata migliore tra diaframma, ISO e tempo appunto per non generare troppo rumore all'interno della foto io addirittura riduzione del rumore non l'ho usata generalmente la uso magari in post produzione in questo caso con la D700 ho impostato 800 ISO un tempo ho usato più o meno due minuti e mezzo di tempo di esposizione il diaframma ero a F8 non ho neanche avuto bisogno di in post produzione appunto di andare a ridurre il rumore perché la D700 mi ha permesso di avere uno scatto comunque pulito già di suo comunque appunto abbiamo messo cavalletto, macchina, inquadratura, inquadrato il tutto e siamo partiti con le varie prove di scatto una volta trovata la giusta esposizione si parte appunto facendo tutti gli scatti che in questo caso, nel mio caso almeno con il mio tempo e le mie varie impostazioni sono stati 17 scatti e risultato due minuti e mezzo per scatto io ho fatto due minuti e mezzo, circa due minuti e mezzo per scatto e ho fatto appunto 17 scatti lui ha usato altre impostazioni e ha fatto anche un po' di scatto ok, avete fatto gli scatti al monumento religioso nudo e crudo poi a un certo momento vi è venuta in mente una cosa perché sì, belli gli scatti così notturni tra l'altro prima nel fuori onda citavamo un amico che addirittura ha fatto un libro fotografico solo scusamente sui notturni di questo tra i tanti sacromonte d'Italia patrimonio dell'UNESCO ma dicevo a un certo momento mi è venuta in mente un'idea così balzana alla Cesare Ragazzi mi piace che Cesare Ragazzi parla quello senza cappelli scherzi a parte sì, in effetti abbiamo detto perché stiamo qui a non fare nulla se non seguire gli scatti della fotocamera e provare magari l'ultimo scatto un qualcosa che eventualmente si può evitare di tenere in considerazione nel lavoro successivo e provare a lasciare una traccia luminosa nella foto che possa dare qualcosa di diverso renderla più accattivante e ovviamente come diceva Alex avevamo le nostre torce frontali e abbiamo provato e ho preso la mia la mia l'ho messa in testa la sua l'ho tenuta in mano e ho fatto pian piano camminato passando dietro al monumento dentro praticamente sotto al monumento e sono sceso di fianco alla sua fotocamera ha lasciato ovviamente visto che i tempi erano piuttosto lunghi una scia molto diciamo concreta, visibile e con tutte quelle diciamo così ondine che sono il mio camminare e ha lasciato proprio sembra quasi porta proprio l'occhio a seguire e a introdurre la persona nello scatto dà quella sensazione anche di profondità che probabilmente difficilmente sarebbe venuta fuori la rende sicuramente più accattivante questa è una delle cose che tra l'altro mi ha colpito di più il fatto che questa scia proprio consente di guidarci all'interno dell'immagine mi è piaciuta subito molto questa cosa poi non vi siete mica fermati qua perché se io sono un tipo strano loro non è che stanno tanto meglio di me che cosa hanno fatto? hanno detto va bene noi torniamo a casa adesso non è che andiamo a berci in mojito no si sono messi davanti al computer e hanno utilizzato una tecnica particolare per montare gli scatti con un software particolare che non siamo in grado di farvi vedere adesso semplicemente perché ne esiste solo una versione per pc corretto e questo software che cosa fa esattamente? allora questo software in poche parole intanto bisogna caricare si può caricare solo dei jpeg quindi una volta arrivati a casa se scattate in raw come abbiamo fatto noi vanno prima convertiti in jpeg tramite qualsiasi io uso photoshop li ho convertiti con photoshop e messi appunto in jpeg una volta appunto trasformati in jpeg vanno caricati in questo software che è start rate questo software cosa fa? praticamente bisogna caricare tutti gli scatti eseguiti con la macchina e in più uno scatto a sfondo nero una volta caricati il software crea appunto unisce le foto e crea appunto tra virgolette il movimento delle stelle che in realtà come abbiamo detto prima non è il movimento delle stelle ma della terra dando questo appunto questo effetto nel cielo di volta celeste tutta in movimento noi abbiamo fatto due almeno io personalmente ho fatto due foto finali una con la scela luminosa quindi ho inserito nel programma la foto che avevo fatto con la scela luminosa mentre un'altra senza scela luminosa non ho inserito nel programma semplicemente la foto che avevamo fatto singola con la scela luminosa ok quindi questo anche per sfatare il mito che per ottenere questo tipico effetto da volta stellata che ruota sopra noi dandoci questa sensazione di turbinio dell'immensità non siete stati in giro tutta la notte con la macchina aperta e via dicendo ok anche perché oltretutto i nostri cieli non consentono di fare operazioni di questo genere beh che dire ragazzi avete fatto un lavoro straordinario bellissimo nella sua semplicità ma anche estremamente originale a questo punto questa per noi era l'occasione per innanzitutto far conoscere la vostra la vostra opera ma anche per dare perché no uno spunto a quelli più giovani o a quelli appassionati come voi e che non passano la serata davanti al mojito come noi per buttarsi in avventure fotografiche sperimentali per lasciarsi andare a tutto quello che può succedere mentre sei sulla scena dello scatto perché la tecnica è uno strumento ma poi c'è anche l'arte di improvvisare l'arte di vedere che cosa succede sul momento per creare qualcosa di inaspettato cari amici e care amiche di Total Photoshop quindi questo era il nostro invito ringraziamo Alex ringraziamo Marco che fa un lavoro incredibile che non sono riuscito a ripetere come terminologia finale come al solito a questo punto in tre vi auguriamo i nostri migliori pensieri positivi ci wow a tutti e ricordatevi di non pensare ad un elefante rosa dal prossimo tutorial ringraziamo 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 ringraziamo